Siamo arrivati a tutti i film di Sardegna C'è un quale film di Sardegna? C'è un film di Sardegna? Sì, non stai Diciamo, siccome è più che... Aspetta, è tutto Dario. Ma te, tipo, anche una come What's a Rai, in realtà, va... Possiamo iniziare, quindi... No, aspetta, allora lo riconosco. Cos'è? 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 Che è molto più voci. Filling Zold, insomma. C'è Filling Zold? Con l'intro. Due giri d'intro. No, no, attacchiamo... Aspetta, scusate se... No, 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 no... Non, no, 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 no... Ciao, noi siamo Foxal, siamo molto onorati di poter aprire il concetto di accesso di display.